3D Tellizza per l'affidamento dei lavori per il nuovo ponte sul Serchio, l'infrastruttura che dovrà collegare la strada provinciale 1 francigena con la statale 12 del Brennero. Oggi, 6 settembre, a Palazzo Ducale si è svolta in seduta pubblica la procedura di apertura delle domande di partecipazione relative al bando di gara internazionale che scadeva ieri dopo la proroga concessa nei primi giorni di agosto dalla provincia. Provincia che punta ora ad affiancare i lavori entro la fine di quest'anno per poter aprire cantieri nei primi mesi del 2023. Sono tre le imprese costruttrici, tutte italiane, che hanno presentato altrettante offerte al bando di gara per l'appalto che assegnerà ai lavori di realizzazione della grande infrastruttura il cui quadro economico supera i 23 milioni di euro. La provincia, nei prossimi giorni, nominerà la commissione giudicatrice, che una volta ultimate tutte le verifiche formali e compiuta la conseguente attribuzione dei punteggi sulle offerte tecniche delle ditte, procederà ad aprire le offerte economiche e ad aggiudicare i lavori di realizzazione del ponte sul cerchio.